Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Furiosa e minacciosa, Sonia Bruganelli esplode puntandogli il dito contro, una reazione improvvisa che suscita sgomento Cambiamenti per l'ex opinionista del GFVIP, durante l'ultimo anno Dalla separazione dall'ex marito Paolo Bonolis al trasferimento a casa nuova, ancora deve abituarsi Un turbine di sensazioni contrapposte e al contempo un nuovo capitolo di vita che si prospetta all'orizzonte Una costante rimane ugualmente la famiglia, i figli rappresentano il pilastro della sua esistenza, nonché l'affetto, comunque, incondizionato per il conduttore Ancora follemente innamorata, per quanto il sentimento si sia trasformato Relax nella nuova magione, tra ampi spazi luminosi e arredo di design, anche se, ultimamente l'umore non corrisponderebbe alla gioia di un'eventuale rinascita, scaturita essa da una ventata di novità Dall'animo cupo e profondamente irata, la tensione scoppia in un durissimo sfogo, giungendo perfino alle minacce Il pubblico ancora non l'aveva mai vista in simili condizioni, benché il reality show di Canale 5 portasse, sovente, all'esasperazione, magari a causa di alcune discussioni con i concorrenti Sonia Bruganelli, pronta a votare il sacco, non sa cosa sta rischiando I telespettatori hanno imparato a conoscere la personalità caratteriale di Sonia, almeno sul piccolo schermo Combattiva e schietta, non teme alcun giudizio ma difende il proprio punto di vista con ardore Dinanzi a determinate situazioni si può arrabbiare con facilità, come capitato recentemente Non a caso, ha perso le staffe perché quando è troppo, è troppo, arrivando perfino alle intimidazioni Non c'è via di scampo, un impeto mai manifestatosi prima d'ora con tale irruenza Stando ai fatti, in verità, nulla di grave, per adesso Il pelosetto Beppe, razza bassotto, è il nuovo arrivato nonché coinquilino della conduttrice che l'ha definito il mio giovane fidanzato Si è avventato, con tenerezza e fermezza, sulle sue decoltè argentate, dal tacco vertiginoso Un vero trauma per la bellissima dagli occhi azzurri, amante delle calzature e genericamente l'ambito fashion Infatti, così si legge nella Didascalia, che traduce il pensiero minaccioso di Brucanelli Non ha idea di ciò che sta rischiando con un emoticon dallo sguardo sorgnone Un dolcissimo amico a quattro zampe a cui si potrebbe perdonare qualsivoglia maracchella Non dimenticando che gli animali, alla fine, sono come bimbi, specialmente i cuccioli Sicuramente, questo cagnolino rappresenta un meraviglioso impegno per la padrona perché ha già dimostrato di avere un bel caratterino così ha ammesso Vivace e caparbio, avrebbe già conquistato i fan sui social, grazie a quel mosino tirabaci, divenendo la vera stella del web